Buonasera, benvenuti ai dialoghi di Trump, 17esima edizione, paure, non potevamo non scegliere questo tema ve lo diremo un sacco di volte in questi giorni ma credo che lo cambiate tutti quanti perché da tanti mesi ci stiamo lavorando e stasera apriamo con questo primo incontro con un artista Dario Aggrimi che ha già esposto una personale, credo che sia stata un'opera completa, non un'autologica, non un'amostra che è fatto prima qui a Palazzo ma via deve emere la professoressa storica dell'arte ha fortemente voluto e tutti noi abbiamo avuto grande piacere di avere qui Dario con alcune opere particolarmente legate a questo tema come vedrete se non l'avete ancora visto e con loro il nostro giornalista di Rai 3. In questo momento io sto in un vuoto totale Marinelli, Vito Marinelli scusate sono riuscita, ho fatto tutta una scena naturalmente non era vero niente ovviamente bene, allora non mi resta che lasciare a loro la parola ringraziarvi, naturalmente dopo questo incontro ci sarà l'inaugurazione l'incontro come sapete poi con l'ominiatra Borgna e poi a seguire due incontri di Repubblica che quest'anno per la prima volta collabora con noi e quindi sarà presente per tutta la settimana e parleremo del sindaco Bassano, prego grazie, buonasera a tutti è molto bello, nonché molto contemporaneo trovo che una settimana di appuntamenti di così alto spessore e profilo come i dialoghi di Trani addirittura scelgano di aprire un'edizione ancora prima della cerimonia inaugurale con una discussione sull'arte contemporanea io questa cosa qui devo dire, devo dare atto agli organizzatori della Maria del Porto e a Rosana Caeta che è la direttrice artistica di avere avuto, diciamo, intuito un intuito di cui io ho avuto conferma recentemente perché sono appena rientrato da un soggiorno a Venezia dove sono stato per la mostra del cinema di Venezia e anche per la Biennale di Architettura sono andato a vedere anche una mostra alla fondazione Pinot alla punta della Dogana che si chiama Dancing with Myself una coproduzione, Palazzo Grassi, Museo di Essen in cui ci sono tra i temi trattati c'era anche quello appunto legato alla rappresentazione dell'esistenza e quindi anche della morte quindi davvero complimenti io ringrazio davvero i dialoghi di Trani e la Maria del Porto per avermi invitato è già la terza volta che intervengo qui come moderatore ai dibattiti dei dialoghi di Trani e questo sodalizio, devo dire, che mi lusinga molto e mi rallegra grazie, grazie ancora Rosanna grazie a tutti dicevo di questa rappresentazione della morte e delle paure che è il tema generale dell'edizione 2018 dei dialoghi di Trani ognuno di noi ha le sue paure sono tante le paure giornalmente anche leggendo i giornali andando nelle piattaforme social guardando la televisione insomma il tema della paura ci accompagna tutti i giorni è un must quotidiano c'è la paura di perdere il lavoro c'è la paura di non avere abbastanza sicurezza c'è la paura dei ritardi della giustizia di non avere giustizia insomma ci sono tutte queste forme di angosce angosce che poi quando raggiungono estremizzazioni diventano fobie e quindi abbiamo la xenofobia abbiamo l'omofobia e abbiamo anche la tanatofobia la tanatofobia cioè la paura della morte che è un elemento diciamo che contraddistingue in maniera particolare tutta la filosofia del pensiero contemporaneo del mondo occidentale perché soltanto da noi c'è questa paura della morte perché nelle filosofie orientali nelle arti e nelle scienze sciamaniche anzi il momento del trapasso viene vissuto come quasi come un premio come una liberazione o come diciamo un inizio di un nuovo percorso extrasensoriale quindi ora noi ci troveremo diciamo a discutere in questo incontro dell'arte contemporanea come una forma di esorcismo se esiste diciamo questa forma di esorcismo nei confronti della paura di questo tema, di questo plot narrativo contemporaneo e a discutere insieme a me di questo tema abbastanza angosciante se vogliamo ma anche molto stimolante e l'artista diciamo che oggi inaugura anche la sua mostra Dario Agrimi che è già stato ospite come diceva Rosana Gaeta di Palazzo Beltrani dove c'è stata un'antologica una retrospettiva come la possiamo chiamare insomma un tutto una summa del lavoro di Dario Agrimi per questa edizione di Dario di Trani sono state scelte tre opere due delle quali sono in fondo qui nella sala di fronte e una invece al primo piano le opere si chiamano Non dice chi è Limbo e Ascesa e poi alla mia destra la curatela la critica d'arte nonché docente dell'Accademia delle Belle Arti di Adelenere con la quale appunto tratteremo questo tema le opere di Dario Agrimi ci conducono a metà su questo percorso di analisi delle paure contemporanee ci accompagnano a metà tra il serio e il faceto diciamo tra il laico e il prosaico tra l'angoscia e l'attesa diciamo anche di quel momento che rappresenta un po' un appuntamento inconfutabile per tutti quanti ecco io da qui vorrei cominciare a discutere sulla nostra paura della dipartita dal mondo e anche sull'essenza della vita diciamo con te con l'IA faccio a te la prima domanda poi ovviamente Dario mi hai promesso che parlerai perché so che tu sei una persona che parla poco diciamo preferisce dipingere oppure creare queste installazioni abbastanza inquietate però mi hai promesso che parlerai qualche cosa no 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 invece sono tutti molto curiosi perché gli artisti di solito si guardano nessuno li ascolta invece quando gli artisti parlano credo che ci sia anche un elemento di interesse ecco benissimo allora io vi sottopongo una domanda così abbastanza tataista ecco si può sorridere all'idea alla paura della morte all'idea della morte ti porgo il microfono esordisco con un consiglio andate su internet cercate Taffo è il nome di un'agenzia di servizi funebri di servizi funebri che ha scelto l'ironia scelto l'ironia devo dire anche leggera per pubblicizzare i propri servizi allora in occasione della quella dichiarazione del vicepremier Di Maio che diceva che eravamo che siamo composti al 90% di acqua ci ha fatto sorridere Taffo dicendo Luigi se fossimo composti al 90% di acqua non venderemmo bare ma vasche non solo ma mi pare che abbiano aggiunto da qualche altra parte non proporremo la cremazione ma l'evaporazione dopo questa dopo questa parente ti dirò che in effetti diciamo si può sorridere della morte diceva Marco Aurelio addirittura la morte sorride a tutti e un uomo non può far altro che sorriderle di rimando ma in effetti forse è proprio da uno degli artisti che al tema della morte ha dedicato la maggior parte delle sue opere che ci tiene un insegnamento dice Damien Hirst che è uno degli forse più importante degli young British artists che appunto dice mi è stato insegnato ad affrontare ciò che non posso evitare la morte è una di queste cose vivere nella società tentando di non guardare la morte è stupido perché guardarla ci fa ritornare alla vita con maggior vigore e energia il fatto che i fiori non durino per sempre è ciò che li rende belli ma si può sorridere sul tema sulla tomba di Valdettiari c'è scritto non preoccupatevi e sono arretrato Roberto Benigni ha scritto morire non vi piace per niente è l'ultima cosa che farò e via di seguito quindi si può sorridere perché in effetti morire è un dovere logico ha detto Umberto Veronesi cioè non ci dobbiamo togliere da mezzo di mezzo da mezzo perché dobbiamo lasciare posto agli altri e noi rimarranno le opere il pensiero le cose che abbiamo scritto quindi è quella l'unica forma di immortalità pensate se fossimo tutti immortali che confusione e che noia Dario allora io adesso lo chiedo a te diciamo qual è il confronto tra positivismo e negativismo nell'approccio al tema della morte della paura del trapasso ecco tu che sei un creativo diciamo secondo te qual è il vero orientamento diciamo per poter affrontare con prosaismo filosofico se posso usare questa espressione uno dei momenti diciamo assolutamente ineludibili della nostra esistenza Buonasera io ho la mia personalissima opinione per quanto riguarda questo argomento penso che la morte sia la risposta la risposta a quella che è la domanda fondamentalmente sai la gente si chiede chi siamo perché viviamo tutta sta roba qui alla fine siamo scimierette non angeli caruti dal cielo e io mi sento una scimieretta se ti senti un angelo caruto dal cielo buon per te e sono fiero penso che siamo frutto del caso fondamentalmente e per caso ce ne andiamo e la vita è caratterizzata al 90% da caso e da 10% da e quindi la morte con la sua casualità dà la risposta perché esistiamo perché viviamo perché facciamo è il caso viviamo per caso esistiamo per caso e moriamo per caso perché non sappiamo quando non abbiamo il momento preciso alcune volte abbiamo la presunzione di voler decidere quando magari spariamo un colpo in testa però Gino Paoli si è salvato quindi anche quello è pure casualità e sì si può sorridere dalla morte i Monti Python quando è morto uno dei loro hanno organizzato un funerale finto non essendo loro credenti e hanno organizzato uno sketch in cui facevano cadere le ceneri per terra del loro amico defunto e succedeva un delirio hanno creato un show sulla morte di uno dei loro più cari amici che ha lavorato con loro per 40 anni fondamentalmente quindi è un tema la morte la paura quella che è qui la cosa interessante è che la paura non è estremamente legata alla morte perché ovviamente ci sono delle persone che non hanno paura della morte ma la cosa interessante è che magari una persona che non ha paura della morte potrebbe avere paura degli scarafacci o di qualsiasi altra cosa quindi per quanto riguarda il mio lavoro io studio quello che è il pubblico quello che è la società e lo sfondo lo prendo in giro e soprattutto quello che vedrete sono dei lavori che fondamentalmente sono delle fotografie sono un mentre perché è il momento in cui io ho questo in mano questo è fermo ma nel momento in cui lo faccio cadere è caduto ma se io riesco a bloccare il momento in cui anziché stare in mano e anziché stare a terra questo cade ho fatto un intervento artista quindi quello che andrete a vedere che vedrete sopra, sotto in giro nei bagni quello che è soprattutto nei bagni ma nei bagni su è un mentre e noi non siamo abituati a vedere un mentre è come vedere un uccello volare un uccello volare è come vedere un uccello volare se facciamo una fotografia un uccello fermo mentre vola non è fermo mentre vola e sarà difficilissimo renderlo vero renderlo realistico perché siamo abituati a vederlo muoversi a meno che non è boggiato quindi quello che state vedendo è un mentre io sono andato ampiamente fuori tema e quindi possiamo andare avanti beh devo fare un applauso diciamo merita un applauso per sapere solo di Della Pini veramente abbiamo scoperto in cui un'anima di Siddharth diciamo c'è una saggezza che va al di là della composizione estetica giusto professoressa? la religione benissimo allora tornando al tema nelle opere di Dario come vedrete diciamo oltre al senso di inquietudine e di angoscia c'è anche diciamo un sottile tratteggio di sarcasmo e di ironia quasi come se la composizione artistica potesse essere diciamo come dire uno strumento così comico pure lesc quasi per poterci porre di fronte all'analisi diciamo anche etica del comportamento umano di fronte alla morte ecco la prossima domanda che vi voglio fare è questa noi abbiamo più paura per la causa o per l'effetto diciamo quando ci troviamo anche di fronte ad una dimensione di contemporaneità come un'installazione d'arte come nel caso di Dario credo che l'umanità si sia abituata in un certo senso all'idea della morte secondo me parlo anche per quel che mi riguarda e soprattutto la paura di come si muore cioè la paura della causa piuttosto che dell'effetto per il semplice fatto che peati quelli che muoiono in 15 minuti e invece ce ne sono tantissimi che hanno una lunga agonia che hanno gli ultimi anni della propria esistenza rovinati dalla coscienza di essere vicini ma di non sapere quando dover dover morire e in effetti è proprio diciamo secondo me comunque il problema fondamentale oggi è che i media ci fanno vedere la morte in tante maniere ci fanno vedere atti terroristici guerre omicidi incidenti ma in effetti non contribuiscono eccessivamente a far sì che il diciamo il tema della morte diventi diciamo come dire diventi si accetti perché la morte reale non si vede quasi mai una volta negli anni 30 si facevano fino agli anni 30 in Europa in America si facevano le maschere mortuali si facevano le fotografie dei defunti anche gli artisti ripingevano i propri cari diciamo sul letto di morte quindi adesso non si fa neanche più non credo proprio che si fa inascosto ma non si fa più neanche non si fa più proprio quindi per me è soprattutto la causa perché insomma tutti vorremmo morire in 15 minuti e basta magari senza aver avuto nessuna disagia precedentemente Dario allora secondo te invece la tua attività professionale come esponente di arte contemporanea ti pone in una condizione diciamo di poter distinguere se la paura è più legata alla causa o all'effetto buonasera stavo scherzando in questo caso questa è una grande domanda perché in questo particolare caso la risposta è soggettiva ed è l'amore causa o effetto dipende da per chi e per cosa vive un individuo perché nel momento in cui ti dicono ti restano sei mesi se vivi per te stesso è una cosa e quindi è la causa se vivi per qualcun altro è un'altra cosa è l'effetto perché pensi a quello che sarà l'effetto su tuoi familiari sui tuoi figli sui tuoi nipoti sui tuoi amici sulle persone a cui mancherai e quindi sì la causa è il dolore ma dipende chi sei perché se sei qualcuno che vive per gli altri che ha dedicato la propria vita agli altri e ha aiutato gli altri è della causa se ne frega avrà l'effetto come cosa più importante per sé perché non potrà più contribuire a migliorare o ad aiutare tutti gli altri tutte le persone che fondamentalmente lo renderanno vivo dopo la morte perché ciò che rende vivo un qualcuno dopo la morte a meno che non sia un artista o o un dittatore è il ricordo che hanno gli altri quindi se uno non ha un buon ricordo per me è effetto fondamentalmente ma io spero nell'apocalisse cioè così non resta vivo nessuno nessuno si ricorda nessuno fino no poi fondamentalmente il quadro della scala evolutiva è chiaro basta tirare fuori un telefonino tiriamo fuori un telefonino comunque sia il mio in questo caso che è anche piccolo tiriamo fuori il telefonino quando dico scimierette non dico perché sto dicendo sto facendo una citazione perché è esattamente così quando noi vediamo il quadro della scala evolutiva c'è la scimia che man mano si tira su e ora pian piano si tira giù no è questo che siamo diventati voi provate a spegnerlo per una settimana se provate a spegnere il telefono per una settimana avete un sacco di problemi un sacco va in tilt facebook anche perché caricheranno centinaia di miliardi di messaggi amici cugini compagni tutta questa roba qua ormai si è dipendenti a questa cosa qui e questa cosa qui ci sta riportando la gente non si guarda più in faccia infatti giuriscono i cartopeggi eh sì ma non sono insolito ma è giusto così è giusto così spero di essere stato soddisfacente ecco parlavo prima diciamo delle estremizzazioni delle paure le fobie secondo voi l'arte può essere un deterrente per combattere queste forme estreme che molto spesso diciamo non sono altro che manifestazioni di intolleranza o di ripugnanza ci può essere possiamo attribuire all'arte un codice di tolleranza ecco questo volevo capire l'arte oggi si interessa moltissimo ai problemi sociali e devo dire sono molti gli artisti che hanno fatto vuol dire hanno fatto attenzione fanno attenzione a beni quali la malattia la morte la violenza l'omofobia quindi diciamo l'arte assolutamente ha questo forte interesse per questi temi e comunque la morte è diciamo stata per molti artisti più che un deterrente anche in passato un tema privilegiato un tema privilegiato perché hanno fatto gli eventi della propria esistenza o della propria o di quella di persone a loro vicine hanno fatto come dire tesoro è una parola un po' esagerata ma comunque hanno utilizzato appunto il tema della morte in maniera molto interessante basti pensare alle opere che ha fatto René Magritte ricordando il suicidio della madre oppure a tutta quanta l'opera di Andy Warhol che è come dire proprio molto segnata dalla malattia che lo colpì da bambino e poi soprattutto da quell'attentato che subì da Valerio Solanas e lì per esempio tra incidenti serie elettriche Marilyn Monroe ricorda però dopo la morte poi proprio un teschio e altre opere insomma c'è un filo conduttore che porta proprio dire che diciamo è quello della morte sempre presente sempre con alle proprie spalle ma c'è per esempio Ernst che ha anche lui che può sembrare un artista un po' così un po' strano un po' superficiale in alcuni momenti un po' esagerato beh Damian X ha il tema della morte quello degli animali quello diciamo degli squali delle farfalle ma anche delle persone perché è quel grande cosa genere con tutte le cicche perché si chiama party time è praticamente una sorta di memento mori perché tu fumi e quindi la finisci male e poi c'è Christian Boltanski che ha fatto un'operazione da grande giocatore perché ha scommesso sulla sua morte praticamente con un grande scommettitore che addirittura veniva allontanato da tutti i casino perché era capace di così di individual indovinare i numeri in uscita praticamente lui ha vinto la scommessa dopo otto anni lui che aveva dovuto versare un vitalizio allo scommettitore adesso riceverà lui in cambio un vitalizio ma questa è la parte però più come dire cioè meno profonda della sua opera perché lui figlio di un medico ebreo che aveva passato anni sotto nascosto sotto un pavimento diciamo sotto scala ha praticamente diciamo una sorta di missione quella cioè di dare memoria di riportare alla memoria le persone che non ce l'hanno nel senso che è partito da una serie per esempio di morti di massa e quindi la Shoah oppure incidenti tragici e a tutte queste persone attraverso la raccolta di indizi fotografie un numero civico una lettera qualcosa ma proprio di minimale riesce a darci a darne a dargli memoria a dargli una dignità diciamo del ricordo e quindi altri artisti hanno diciamo celebrato in un certo senso nel proprio lavoro la morte per esempio soficale quella della madre ma diciamo è un tema che è molto molto presente nell'opera di molti artisti contemporanei ma anche andando dietro nel passato pensate è stato la pittura del realismo che ha portato la morte alla ribalta dell'arte perché l'ha rappresentata raffigurando anche delle persone semplici il funerale adornando Gustavo e Courbet è un'opera del 1849 ed è già la celebrazione della morte non è un eroe non è un santo non è un condottiero quindi diciamo la morte nel realismo è stata come dire portata alla ribalta adesso invece c'è questa sorta di cappa che ci protegge anche per esempio nei confronti dei bambini molto spesso non si sa come raccontare la morte di un parente di un familiare di un amico però la forse gli psicologi potranno aiutare le persone che hanno bisogno di questa diciamo di questo aiuto ecco dunque la morte è come un tabù da sfatare come ci diceva Gliadevenere nelle correnti artistiche che si sono succedute nel corso degli anni ci sono state diverse angolazioni di descrizione di narrazione ecco Dario invece tu che sei l'ultimo anello l'ultimo ovviamente non dal punto di vista diciamo di valutazione ma soltanto cronologico e temporale l'ultimo anello di questa catena quando tu per esempio ti sei posto ti è venuta l'ispirazione per un'opera come quella che vedrete sopra al primo piano non dice chi è un corpo di una persona della quale non si conosce nemmeno il sesso non si capisce se è una donna un uomo si vedono soltanto dei piedi pensoloni coperti da un'enorme burca nero questo lenzuolo nero che di per sé è già il lenzuolo nero è proprio come dire un'iconografia assoluta del tema della morte ecco tu avevi una fobia e volevi esorcizzare con quest'opera raccontaci un po' com'è nata quest'opera che è quella che personalmente mi ha inquietato di più allora buonasera qui si parla di un processo creativo anche qui è un qualcosa di assolutamente soggettivo in questo caso c'è anche in sala una persona che sa perfettamente di cosa sto parlando riguardo quell'opera se ti la dici e quell'opera in particolare ora farò una cosa che non sono abituato a fare nel senso che la mia personalissima opinione è che l'artista non debba parlare del proprio lavoro perché se il lavoro funziona non ha bisogno di essere spiegato questo è qua e poi per parlare delle opere ci sono i critici gli storici i curatori e quindi è come se io vado in giro a dire io sono figo oppure sono un genio e uno dice sì sei un cretino lo migliore del critico è più scontato quello dell'artista direttamente sì però è il critico lo storico è il curatore che fanno sì che l'artista vada avanti cioè se io vengo da te e ti dico sono un genio tu pensi che io sia un deficiente ma se viene lei da te e ti dice sì ma se lei viene da te e ti dice quello è un genio è un'altra cosa e no vuol dire chiamato una cassa eh va bene allora leggo se funziona così quell'opera era un'opera che mi è stata commissionata per il carnevale e quindi dovevo realizzare un po' cose sul carnevale e allora sono andato a vedere il carnevale di Cotignano mi sono seduto a meno dieci gradi forse su sparre di ferro e mi sono il carnevale di Cotignano che consiglio a tutti quanti perché è una manifestazione fantastica con il mio blocchetto di appunti ora vi darò un'infarinatura su come funziona il mio processo creativo cosa assolutamente personalissima allora ho guardato il carnevale e mi è piaciuto il carnevale ho fatto va bene così no ho guardato il carnevale e ho iniziato ad appuntare tutto quello che vedevo e quindi vedevo la luce vedevo la gente vedevo il volersi bene perché c'era gente lì che si abbracciava vedevo la festa vedevo il rumore vedevo il baccano vedevo il movimento vedevo uomini vestiti da donne donne vestiti da uomini bambini vestiti da grandi grandi vestiti da bambini quindi c'era tutto quello che ci poteva essere è un'enorme soddisfazione da parte delle persone che erano lì e io ho appuntato tutte queste cose segnando anche il suo opposto quindi della luce c'era il buio del bianco c'era il nero del baccano c'era il silenzio e quando si analizza un qualcosa o qualcuno bisogna vedere sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi e tutti hanno degli aspetti negativi e tutti hanno il male dentro perché attraverso il male che la gente ha dentro c'è il libero agito attraverso il dolore le sofferenze noi la mia opinione è che siamo frutto il nostro carattere è frutto dei traumi che subiamo durante l'esistenza che siano positivi o siano negativi ad esempio a me fa schifo la zucca chissà che cosa ho subito per dirmi per dire che fa schifo cioè non riesco neanche a pensarci alla zucca mi era comitato e allora mi sono documentato su quelli che sono tutti gli aspetti negativi e viene fuori che l'aspetto negativo di luce, bene, tutta salva qua è il male e il male incarnato in quella che è tutta la nostra roba religione tutta salva qua è fondamentalmente il diavolo e il diavolo però ha un sacco di facce ma il diavolo per l'immaginario collettivo è Lucifero che prima era buono e incarnava il bene l'astro del mattino il portatore di luce e quindi che cosa succede? ho realizzato Lucifero quello è Lucifero non dice chi è nessuno dice ho ammazzato quello ho tradito mia moglie qualcuno c'è però abbiamo tutti delle vergogne nessuno non ha delle vergogne e quindi quella è la vergogna e nulla è dato a cazzo in quell'opera perché il nero i teli neri sono vellutino da teatro che serve per azzerare le luci quindi il portatore della luce non può emettere luce propria ma ha dei piedi che sono tagli a 56 frutto di una grande ricerca ho cercato un tizio alto 2 metri e 20 per realizzare quei piedi tagli a 56 di qualcuno che magari è sulla terra da sempre è un qualcuno che tu non sfideresti mai a uno scontro fisico perché è possede è il sapere fondamentalmente e non è né a terra e né in alto è in un mentre no, Lucifero il male approfitta della confusione del carnevale dove tutti sono mascherati per mascherarsi e provare a stornare in paradiso ma è bloccato perché nel momento in cui tu ti stacchi da terra non hai più la condizione umana perché noi siamo legati esattamente alla forza di gravità ovvero la forza con cui ogni corpo è attratto dal centro della terra e quindi è bloccato lì perché nel momento in cui uno ammette l'esistenza del diavolo ammette anche l'esistenza di Dio fondamentalmente è quel Dio che lo blocca e quindi abbiamo un mentre e quindi ho finito bravo per una congiunzione astrale positiva mentre mi preparavo per questa presentazione di apertura per i dialoghi di Trani mi è capitata per le mani una rivista di neuroscienze che si chiama Mind che dedica la copertina a questo tema della morte nell'epoca nella società dei social delle piattaforme social dei social networks e ho letto un estratto del filosofo etanatologo Davide Sisto il saggio si chiama appunto la morte si fa social nel quale lui sostiene che le piattaforme digital aiutano a superare la rimozione culturale della morte soprattutto per noi società occidentale dove questo argomento è ancora evidentemente un tabù ecco io volevo chiedervi adesso secondo voi l'arte può entrare in questo dibattito cioè un'installazione di arte contemporanea ispirata o comunque diciamo affine al tema delle paure della morte può essere come dire uno strumento per elaborare questo lutto certo lo è perché ci fa pensare ci fa riflettere e comunque il compito dell'arte non è quello di fornire delle soluzioni ma quello di suscitare delle riflessioni perché l'arte non ha diciamo potere ma nel senso appunto di poter dare delle soluzioni ma certamente ci può indurre a guardare le cose in maniera diversa e devo dire i lavori di Dario hanno questa funzione almeno questi tre lavori perché poi Dario fa tante altre cose dobbiamo assolutamente specificarlo ma queste ci fanno pensare al fatto che ci stiamo noi stessi condannando ad esempio Limbo che è diciamo una sorta di metafora della condizione in cui siamo e qui ancora non ci rendiamo conto che dobbiamo diminuire assolutamente l'uso di combustibili fossili che dobbiamo tutelare i mari che dobbiamo diciamo proteggere l'ecosistema e invece stiamo lì affondando affondando perché il gerundio è il suo tempo il suo modo preferito modo verbale preferito l'altro è l'altra opera che è nella sala di fronte è questa ascesa ascesa cioè c'è il suo autoritratto in effetti non è la prima volta che lui si autoritrae fingendosi morto tra l'altro l'opera gli fa pure diciamo comodo perché è un'opera di diversi anni fa in cui si presenta più magro più giovane quindi adesso invece è che volete dell'età avanza e quella per esempio nel titolo ha un come dire un enigma è ascesa ma è a 45 gradi è ascesa sta cadendo sta salendo boh insomma Dario ecco ci pone una serie di interrogativi che anzi ci fa porre a noi stessi degli interrogativi ognuno di noi poi risponde secondo la propria sensibilità la propria cultura le proprie esperienze ma io voglio dire qualcosa su Dario perché adesso abbiamo parlato troppo di morte ma dobbiamo parlare di quello screanzato che conosco ormai da molti anni io dico screanzato perché lui non ha creanza però lui è una persona che diciamo è insolente e poi vi leggerò gli altri aggettivi che gli sono stati dedicati però si ferma sempre un secondo prima un anno secondo prima di essere esagerato e allora Dario è stato definito eclettico ironico arguto equiverente iconoclasto sfacciato sicuro di sé provocatore demistificatore istrionico multiforme blasfemo insolente sfrontato del suo lavoro si è detto che è spiazzante dissagrante qualche volta addirittura morale insomma forse hanno esagerato e la cosa interessante è che lui usa in maniera disinvolta tecniche linguagge tecniche diverse la pittura la scultura la fotografia il video la performance e utilizza anche materiali oltre ai materiali tradizionali che voi conoscete ma anche delle cose un po' strane avevi fatto un accordo col parrucchiere utilizzando persino capelli umani per realizzare dei bellissimi ritratti basta non pensare a chi erano già lavati ovviamente no ah quindi aveva fatto l'accordo col parrucchiere oppure cusci nuovo oppure oggetti usati che prendono nuova vita sotto diciamo nelle sue mani e poi la cosa importante è che soprattutto la serie di temi che lui diciamo pratica e sono la religione l'attualità gli stereotipi della vita contemporanea l'erotismo la paura della morte e quindi diciamo siamo in tema in questo momento poi soprattutto le cose che caratteri cioè i caratteri fondamentali sono una forte componente teatrale come vedete che le opere da sole fanno scena come si potrebbe si può dire poi anche cioè spesso quel dubbio che insinua nella nostra mente perché di fronte alle sue opere spesso ci chiediamo ma è vero o è falso quindi soprattutto un grande iperrealismo nella pittura come nella scultura a caratterizzare i suoi i suoi lavori e soprattutto voi avete visto come parla bene di solito si nascondono gli artisti ha persino delle idee sue pensate un artista è un artista che insomma è un po' più eretto degli altri allora dicevo soprattutto il suo vero obiettivo è si diciamo far apprezzare il suo lavoro ma in effetti è soprattutto suscitare una reazione nel pubblico cioè cercare di diciamo farlo reagire allora può essere stupore può essere insofferenza può essere disgusto rifiuto ma una reazione c'è sempre e Dario diciamo in questo è proprio bravo perché a quel punto quando riesce a suscitare una reazione negli osservatori è arrivato diciamo al suo obiettivo mi sembra che nelle opere abbiamo già parlato quindi dovete solo andare a vederle e poi diciamo cominciate a pensare perché l'arte è fatta per far pensare soprattutto diceva Georges Braque l'arte serve a turbare perché la scienza rassicura oggi purtroppo neanche la scienza ci rassicura più grazie è molto interessante questa analisi e questo spunto critico allora Dario alla fine di questo intervento dobbiamo dare spazio alla cerimonia inaugurale io non ho ancora capito bene se tu hai paura della morte oppure se la morte ti fa rabbia a me per esempio mi fa rabbia l'idea della morte perché l'idea di dover lasciare qualche cosa di interrotto proprio mi irrita non so a te invece quando ti sei così abbandonato all'estro creativo per questi lavori che vediamo qui stasera qual è stato il tuo vero sentimento nei confronti della morte era veramente paura o era piuttosto una maniera così una scacciacane la paura della morte la mia speranza è quella l'unica è quella di andarmi dopo mia madre sempre per causa e la paura della morte no non ho paura del dolore di queste cose penso che la paura della morte estremamente legata a quella che può essere il lavoro di un artista o all'artista persona è non avere tempo perché purtroppo il prodotto di un artista è estremamente legato a quelle che sono le sue possibilità fondamentalmente e nel mio particolarissimo caso potrei non avere tempo per realizzare tutto quello che devo realizzare e vi garantisco che nonostante io abbia realizzato tanto agli occhi di molti io ho realizzato lo 0,5% di quello che dovrei realizzare o che potrei realizzare se se avessi io io dormo 4 ore al giorno e lavoro 15 ore quindi non è è è il tempo la paura di non avere tempo cioè la paura che tutti quei momenti in cui hai dormito con il blocchetto si sei preso gli appunti sulle mani sei stato sveglio a lavorare per cercare di raggiungere un risultato sperimentazione venga sprecato perché fondamentalmente l'arte è come nel mio modo il mio approccio è scientifico perché l'arte premia l'idea no? l'idea è frutto della sperimentazione la sperimentazione è una caratteristica della scienza e infatti l'arte in questo senso è diciamo addominia l'artista si serve anche anche io mi serve di scienziati fondamentalmente anche un fabbro per me può essere uno scienziato attenzione cioè chiunque può essere uno scienziato l'importante è che sia un professionista del suo campo e quindi tutto questo sforzo tutta questa energia vada perduta per magari penso mica un mattone in testa ma non è paura della morte è paura è paura dello spray allora io non sopporto di sprechi aver sprecato cioè aver lasciato tutta questa roba qui indecifrabile perché fondamentalmente è indecipabile io i miei sono con parole chiare sono io scrivo una parola e a quella parola ho associato un'idea e dietro a un delito possono fare criticità possono fare casino lo so beh signori spero di essere stato soddisfacente posso fare una domanda? no mi dispiace infatti alla fine della discussione noi volevamo anche porgere il microfono a qualche intervento dal pubblico prego si voleva avvicinare e parli al microfono parli al microfono così tutti la sentono a proposito di paura io non ho ancora visto le opere con molta attenzione con molta attenzione perché insomma è stata molto interessante questa vostra presentazione però sono capitato nel bagno negli uomini e sono capitato allora io voglio sapere dall'artista non dico nulla è possibile ha previsto la possibilità di interagire con quell'opera o ha avuto paura delle reazioni che il diciamo il frequentatore di quell'uomo potrebbe avere questo voglio allora fortunatamente il signore mi sta consigliando di andare in massa in bagno c'è anche il problema delle donne c'è il bagno ce n'è per tutti ce n'è per tutti e anche quella è una paura allora quella è un'opera che fortunatamente non necessita della mia presenza fisica per poter dimostrare in quel caso quello che si sta dicendo in realtà è una cosa tra uomini può essere anche un po' pulgare no? sai che tra uomini si dice no tu ce l'hai piccolo sta roba così però in realtà non è che si ha certezza di questa cosa alcuni si hanno certezza di questa cosa ma non c'è la telecamera e quindi la cosa interessante allora quel lavoro non è il fatto che io sto accusando un uomo di un uomo piccolo è che per fare determinate cose alcune volte serve concentrazione e non hai concentrazione se hai uno nell'orecchio che continua ripetutamente a dirti che ce l'hai piccolo cioè è quello l'importante è che resti qualcosa se resta un qualcosa di negativo è meglio perché se allora se incontriamo qualcuno e questo qualcuno ci fa che ne so una carezzina così è una cosa magari ce lo ricordiamo ma se incontrate uno che vi do un ceffone non lo dimenticate sicuramente io vi do il ceffone non vi do la carezzina quindi è quella l'idea e nel momento di avere la risposta eh sì ma la risposta va beh pazienza pazienza perché siamo uomini il momento storico ci dice questo nel senso che io analizzo quello che è il momento storico non è solo il momento storico vostro ma è anche il momento storico mio perché attraverso il dolore che io reco allo spettatore o il fastidio che reco allo spettatore io acquisisco credibilità e attraverso la credibilità posso arrivare a fare qualsiasi cosa perché con la credibilità poi c'è il budget tu dici hai fatto questo 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 e questo hai avuto questo tipo di successo questo tipo di successo quindi a un certo punto puoi chiedere il budget e ti danni il budget e tu puoi creare non mi hai risposto sulla paura come? non mi hai risposto sulla paura la domanda specifica è? è avete paura di interrompire? no 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 mi andava messo un registratore per raccogliere le impressioni le impressioni dei frequentatori di quello il problema il problema è una cosa semplicissima che si chiama legge sulla privacy uno può anche essere denunciato cioè ci sono delle l'opera fondamentalmente studiata cioè è fatta appositamente per dare fastidio non ho mai considerato la possibilità di poter interfacciare con chi esce dal banco fondamentalmente perché fondamentalmente non mi interessa e il fatto che lei abbia fatto la domanda per me è è una risposta molto spesso il fatto che ci sia una domanda è già una risposta qualsiasi domanda ci sia come vedete insomma si può anche ridere trattare il tema della morte del trapasso anche così con un taglio di sarcasmo e di ironia come fa Dario Grimmie ci sono altre domande? no? allora tutti siete in ansia di andare nel bagno sì certo ho capito subito allora ecco le donne non ve lo diciamo nemmeno che cosa troverete quindi io vi lascio alla degustazione così delle opere di Dario Grimmie allo scatenare delle vostre inquietudini vi ringrazio per essere stati con noi in compagnia nostra per questa prima discussione dei dialoghi di Trani 2018 ringrazio ancora una volta per la fiducia accordata Rosanna Gaeta della Maria del Porto curatrice artistica dei dialoghi di Trani grazie ancora a tutti e buon proseguimento di serata ringrazio ringraziamo Ligia Delene Dario Agrini Vito Marinelli e vi invitiamo senz'altro a visitare la mostra intanto vi annunciamo che sta per iniziare l'inaugurazione della 17esima edizione dei dialoghi di Trani potete accedere su Interrazza dove si svolgerà l'inaugurazione attraverso le scale che trovate in fondo e quindi potete già ammirare le opere di Dario Agrini grazie ce l'è per tutti prima ma meglio poi grazie grazie a tutti